so fastweb via undeo 49a strada da dove passano tantissime persone che vanno anche al mercato il giovedì con bambini donne sono mesi che questo tombino che è tutto arrugginito ed è pericolosissimo perché ci si può tagliare oltre al fatto che prima o poi qualcuno ci cadrà dentro e siccome non si sa chi appartiene se alla fogna l'elettricità all'acquedotto o niente nessuno lo viene a riparare